Salve ragazzi, siamo qui ancora con Jacopone, che è il secondo efficiale della serie, partite su Brawl con Jacopone. Ragazzi abbiamo fatto una partita prima di allenamento e è andata abbastanza bene, quindi io direi che possiamo andare a fare qualche altra modalità, per esempio rapina, perché sempre... Aspetta, aspetta, dai io! Se mi lasciate la richiesta questa persona qua, un attimo che sta giocando una partita. Vabbè dai, io la facciamo una supervivenza. Rapido. Adesso, fammi vedere... Intanto vai a vedere l'interdito se vuoi. Sì ragazzi, è un'ottima. Ma chi è? Su guarda, sapete quante coppe c'è? Aspetta che finita la partita, non c'è, ha vinto. Non stai nel canno? No, no, non stai nel canno. Ma se non mi accetta la richiesta, ma non me la accetta sempre, perché giochiamo spesso. No! Citt, giochiamo spesso, non l'hai rifiutata! Vabbè dai, più niente. Oh, bastardo. Vabbè dai, metci capino dai. Comunque tiene... 9.000 coppe. Sì, pure io con alcune 9.000. Aspetta, vediamo un caso sto allai. Ma chi? Ehm, Ciavaz. Chi è? Eh, c'ha... 9.359 coppe. Questo qua mi tiene 9.558. Sai che ti dico? Io voglio mettere... Lui. Chi? Tal? No, non mi ha... Un classico, andiamo sul sicuro. Eh, ok. Ragazzi, se questo video raggiunge 5 light facciamo il terzo episodio di partita pro con Jacopone. E qua gli sto scelando le peggio cose. Eh, infatti c'era troppi forti. Dario, come te la fassi nel centro? È abbastanza bene, quel bullo l'ho reso in merda. Qua c'è un corvo. no? No, è qua. Ah, quei... Là. Sì. L'hai visto? Sì. Io meglio. No, qualsiasi gente l'ho vista, allora, come sponi tu? Io ho due colpetti così a casa. E un colcio. Dai colpi. Sprezzo. Sprezzo. Fogli di movimento tattico. Ha rotto. Bene. Ah! C'hai una mamma! Si fa bene scappare. Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi? C'è un bullo a nove! A nove! A nove! No, non me lo aspettavo mai! Sprezzo mio! Mi era fo Saul! No mia cosa? Non mi tava mai mai. Pi Sedto, aveva quell'altro! erro! Ho visto che fosse peutll'altro! No, no, no! Chichichichi no! un colpo c'è tanto guarda quanti belli cassa vai al centro di reti mi faccio così come il spolvero eh c'è la rosa là vai prendi e scappa ti faccio da body box no niente body box te li ho presi tutti però infatti sei a sei te ne ho presi quattro ma che una cassa sto laggando schifo io ma nonna almeno interesse spulsi no mi fa cosa serve bombardino guarda guarda che ti ho fatto che cassa ho rotto te li ho rotti tutti te li ho fatto in tempo usare questo è solo oh no guarda quelle che ci hanno quelle che hai ucciso prima attento io no però che cazzo oh mi sciocca e per la super easy easy vabbè dai facciamo rapina per i ghettoni ma vediamo se poi io mi riesco ad aprire qualcosa io c'ho quattro io c'ho quattro gatti ma non è meno che non sono quattro dobbiamo fare proprio tutte le modalità pure in ultimo ride tutto proprio no no mo metti rapina anche di anche cosa va pure assedio ehi si ma vedete se mi mi accettare chiesto non c'è sacca mazzo io come ma stai laggando io si ci vede eh ma tu e tu non è che stai messo bene no no io mi sto messo bene se tu che stai laggando mi vedi laggare a me ma no vabbè oh ma che cazzo oh ma la nostra base io sono morta io sono andata a pushare eh vai perché non è niente eh qua ci sta un piccolo dynamite ma guarda quello oddio abbiamo la base c'è 86 a no vabbè cosa io vivo ci vuole qua vediamo se pensiamo allo stesso no dai dai poi facciamo raffaggine ci apriamo le casse e poi chiudiamo dai e non dura due ore ma io volevo fare e accumulatela così la apriamo nel prossimo episodio se arriva a 5 like oh se arriva a e non dura due ore lo vado a pushare do re do si si do re dove stai l'aglio stai raggando stai raggando no io muoio E lui c'ha 200 di vite quella rosa, fa culo. Vabbè io gli ero zaneggiato un... Tu c'hai la madre. E voi vi restate voi in base, io vado a pushare alla super. Bro, però, non morite. E ma... Dai! Dai, ma che pelle! Con culo, ho messo la rivenza. E non prendiamo i gittoni. Grazie, Freda. Vabbè, metti la raffa e gemme, dai proviamo. No. Dai, c'ho Diana, è troppo forte la raffa gemme, Diana, Mike. Lo metti in sopravvivenza. Poi ce la abbiamo... Allora ce la abbiamo solamente quattro cazzo. Anzi, anzi, anzi. Mo le accumulo. Le facciamo off camera. Cosa? Eh, la grande, la cassa gigante, da. Poi anche... E arriviamo a 10 con le cazze normali. E poi ce la abbiamo nel prossimo video quando arrivi a 5 like. Se arrivi a 5 like. Tu stai al sole. Body block. Ma ci sono sicuramente che mi viene a recuperare vita, eh. Per me. Io l'ho rosa. Se puoi, fammi arrivare qualcuno qua, perché... Una rosa lo hara. E per tu quella c'è due cazze. Io li fanno qua. Stai venendo, stai venendo. Forza, è bravo. Stai venendo. Facci seguire, se c'è altro. Vai, 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 vai. No, no, no. Ma che fai? Ho sbagliato, sorry. Hai visto che mi stavo montanando? L'hai visto? L'hai visto? L'hai visto? Sta là in mezzo. E ne va. No! No, 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 no. Sì, sì, sì. Non è un problema, non è un problema. Eh, attenzione. Soltati, 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 soltati. Sì! Mamma, mamma, dynamite, madonna. Tento quella bibi. Mamma, ci massacra. Soltati finale. Ma io sto lagando, io sto lagando, non mi muovo. Ma dove, il volo avevo fatto. Ma ci facciamo quest'ultima cassa? Bro, che hai fatto stanno pagando? Stanno pagando? Studiamo. Bravissimi. Perché ragazzi, perché non lo sapesse, deve fare l'esame. La maturità. Sì. Ma è 35 anni, madri. Beh, non è tanto, ma... Passato subito. Domani, mi rai a tutti per tutti. Oh, pure io ci muoio. Oddio. Cosa è successo? Non ci sia vicenda. No! Vai. No, vai via, vai via. Sì. 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 5, 4, 3, 2, 1. Oh, vai via. Oh, vai via. Oh, vai via. Scappiamo. La voglia che era possibile. Io pure devo fare un pimpio. No, noi, facciamo raffagemme. Dai, ci avremo ora. Viste raffagemme. Dai, a raffagemme è assedio, ma... Eh, assedio, allora. Assedio, con me è... Sì, scherzo. Sì, scherzo. Assedio, carl, mamma, mamma, devasto. Eh, non lo so, carl. No, penny, è vero, me l'ho dimenticato. Ah, ci abbiamo conosco, allora, che bene. Lago time. O è lago, o è lento, carl. No, è caso del lenzio di suo. Però pure tu che l'ha chi, non è da studiare. Io mi sto muovendo da solo. Oh, l'ho chillato, ma come? Allora, siamo forti, però, eh. Ci facciamo fare. Oh, mi ha tirato le mine. Mi ha tirato le nostre. La sforza. Io mi sono fatta la pelle. L'ho fatta. Dai, 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 aspetta. Quello sta morendo, mannaggia sua. Vai, tu mi hai vantaggio. 4-1. 5-1. Ok, guarda. Grande, penny, mamma, mamma. Teniste. Vai, andamelo a toccare un po'. Grande robottone. Vai, tutti su, vai tutti sulla torre. Eh, perciò la roba. Eh, abbiamo vinto. No! No! Ficcato. Ficcatissimo. 111. No, ma io non mi muovo, cioè. Tu stai lagando. Ho chiamato uno, è chiamato. Te l'hanno loro il robot, eh? Eh, lo so. Aspetta, aspetta. Perché io la super? No! Oh, usa la super, vai a fanculo. Qua si arriva un bull con la super che andava a pusharli fortissimo. Qua ce devono difendere tantissimo. Io devo provare a fare una cosa. L'ho toccato, eh. 3-7. Dai. Forse è un po' più fino a... Non tanto. No, no, no. Non ne dai, 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 non. Dai, se ti ha... Io adesso voglio andare, anche se muoio, non mi interessa. Vorrei andare a prendere con la città, non si... Vado in base. Io sto per andare. Se la cosa mi prendeva l'idea, è vero. la domina è venuta quella cosa eh ma c'è la rosa vinciamo noi vinciamo noi eh no zitto oh no c'è vero oh no cacchio oh oh a tu chi e cos'è stato il mortaglio oh ma c'è più dieci più dodici what the fuck cos'è tanto da a serio troppo forse io non gioco mai perché c'è uscito perché così mi mi prendo uh cinque casse dai ci manca una cassa sola o rapino o raffagemme o raid no raid è troppo lungo possiamo fare il video di venti minuti a raffagemme raibe raibe come in due ci capita un bull no un altro colt oh così va bene io mi rocco gioco lo scrivo e mi sto sulle palle ma a me sta laggando buono molto ma io sto laggando ma io sto laggando ma io sto laggando no 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 non mi muove ok abbiamo andato una scarica di super no 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 dovresti partire i bottini prima e poi tu ci mani grande no vai super ora boom bitch doppia super cioè una super gli fa l'un per cento della sua vita bro ma io non capisco una cosa se sai che sta laggando non c'è muoio Dario 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 muoio privati e io sono la super tu ti rubati il doppio corte si fa tutte non è bella abbiamo fatto non lo dire ancora il 30% fino ancora 70.000 di vita io mi faccio ancora un bacino no 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 mi vede chiuso ma che cacchio è no stava la stazionata vicina di avvicina di avvicina Maria ma cacchio ma cacchio ma cacchio fare no no ma quello è scemo no Jacopo non si può fa merda a mille di vita no cacchio artasken io non sono morta neanche una volta non sono morta ok ragazzi 50 gestoni ci siamo 5 casse normali e una enorme come l'altra volta l'altra volta erano 10 e abbiamo donato panna scusate io ci siamo prendo una una cassetta allaggata tantissimo e non è il mio wifi e è il mio wifi ha portato bene l'altra volta apriva quella grossa quindi apriva quella grossa 41 monete e ti prego qualcuno che uso perché se no pensi il mio colt buono più 3 vai potensiabile sarà 5 visto è anche il primo vai 5 monete nita colt per favore colt dai colt corvo mi sa che non troveremo niente non troverò solamente più ok uh dynamite forse si dynamite al 3 good bene ragazzi noi vi salutiamo per questa volta se questo video raggiunge i 5 like facciamo il terzo episodio dove spacchettiamo tantissimo e poi faremo un altro episodio dove spacchettere Jacopo bene ok ragazzi mi raccomando lasciate like commentate se volete che questa serie continui e niente a un altro episodio